Grazie. Grazie a tutti. 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 vari adulti di un'età compresa tra i 15 e i 30 anni. Su nove attribuzioni di sesso possibili, mi riferisco all'ultimo scavo chiaramente, l'esclusiva presenza di maschi è indicativa. Già studi precedenti egregiamente condotti sulle sepolture evidenziavano la fortissima preponderanza di individui maschili, in realtà l'unica deposizione certamente femminile era l'attiventi dello scavo Tronchetti. Oggi forse l'ulteriore conferma, anche su questa col DNA potrebbe essere importante. I due vasi inuragici rinvenuti all'interno delle sepolture, tomba B e tomba E, entrambe a pozzetto semplice, consacrano una cronologia a cavallo tra bronzo finale e primo ferrono, una datazione che sembrerebbe essere riconfermata anche dalle analisi al carbonio 14 ricalibrate a due sigma. Per la tomba B, dunque siamo qua, abbiamo più o meno un range tra l'890 e l'840 a.C. e forse potremo intravedere una stratigrafia orizzontale indiziata invece dall'adattazione della tomba 7. Quindi mi riferisco alla possibile anteriorità, come già supposto, delle tombe a pozzetto semplice rispetto a quelle sotto lastra. Tengo a dire solo una cosa, in questo momento sono queste tutte le datazioni di cui si dispone, vero è però che sono fatte da tre laboratori diversi in tre momenti storici diversi. Credo che la situazione ottimale sarebbe quella di fare molte più datazioni su un'unica tomba, su un'unica sepoltura da laboratori diversi. Allora potremmo considerare anche in maniera diversa, avere più certezza dal C14, tenendo conto di ciò che Luca Lai e altri hanno evidenziato ed è giusto tener conto in riferimento soprattutto alla sepoltura di Monte Prama. E cioè la presenza potenziale di carbonio di origine marina crea alcuni problemi a livello di datazione. Nell'avvio dunque di un'interpretazione della necropoli di Monte Prama è già evidente che l'accesso alle sepolture dell'aria è stato selettivo, escludeva infanti, anziani e probabilmente diffunti di sesso muliebre. In questo caso ci si troverebbe quindi di fronte non a una necropoli con deposizioni di gruppi familiari o gentilizi, ma ad un'area funeraria destinata a maschi giovani, come le statue, esclusivamente maschili, farebbero supporre. Dunque agisce un codice, convenzionalmente accettato e si esprime proprio attraverso le scelte intenzionali di cui l'esclusione appare la più forte. All'assenza sostanziale di corredo fa riscontro alla presenza di sculture monumentali, alceri, guerrieri, pugilatori, modelli di nuraghe, bettili, caratteristici delle tombe collettive nuragiche dell'età del bronzo medio e tardo. Se anche alcune sepolture si confermassero come certamente femminili, sarebbe comunque necessario spiegarne l'eseguità numerica, in primo luogo richiamando una distribuzione sui ruoli di genere, che potrebbe prevedere una partecipazione femminile numericamente molto ridotta e limitata ad alcune funzioni. Si richiama anche la proporzione numerica nei bronzi, con le rappresentazioni antropomorfe, dove il sesso femminile è in netta minoranza. Allo stato delle indagini parrebbe che alla selezione funeraria di individui di sesso maschile e di età giovanile corrisponda la sequenza e l'ostentazione di statue. Il grande cambiamento ideologico e forse sociale è espresso dall'impiego della sepoltura singola, che carica lo spazio in questione di una valenza rappresentativa e simbolica. Al di là delle finora rare attestazioni di tombe individuali a pozzetto della prima età del ferro in area sarda, è indubbiamente rilevante l'alta concentrazione di tombe individuali a pozzetto a Monte Prama e l'univocità del rituale dell'inumazione che si conferma nella mineraria tradizione di sepoltura di un cadavere integro delle culture sarde, in forme prevalentemente se non esclusivamente collettive. La sepoltura individuale a pozzetto dunque si afferma a Monte Prama come possibile acquisizione di un modello, mi riferisco al pozzetto funerario per deposizioni singole, forse mutuato dalle tombe a pozzetto di necropoli di fase vilanoviana, destinate tuttavia a diffunti cremati, nel quadro comunque di rapporti tra Sardegna ed Etruria settentrionale e meridionale attivi fin dal vilanoviano primo. Qui abbiamo una necropoli con sepolture singole a pozzetto, un gruppo di circa 87 tombe che non risaltano nel paesaggio, fino al momento in cui gli elementi statuari in accordo con l'area mediterranea vengono inseriti nello spazio di Monte Prama. Sebbene non sia ancora chiaro in che posizione, tombe e statue fanno parte di uno stesso insieme, creano l'immortalità di quegli unici individui che ebbero il diritto d'accesso alla necropoli. Tombe e statue affermano quindi la presenza in un territorio mentre rigenerano la memoria dei diffunti. Ecco che le parole di remoti di ciò che scompare, rimane, riemerge, ma penso anche alle statue funebri viste ieri, alla valenza fortissima e simbolica degli occhi, questa dimensione di trascendenza attraverso la morte può veramente fornire nuovi punti di vista, osservare una necropoli, questa o qualsiasi altra, con occhi nuovi e trovare magari la nuova chiave di lettura. Grazie.